Con il tradizionale saluto alla bandiera si è aperto il nuovo anno scolastico all'Istituto Giovanni XXIII di Salerno, al fischio del nostro uomo invocatore sulle note dell'inno di Mameli. Il drappello degli studenti ha reso omaggio al tricolore, una prassi consolidata a bordo delle navi e con la quale l'Istituto Salernitano ha dato il benvenuto ai suoi alunni. La cerimonia ha visto la partecipazione del capitano di fregata Antonio Gallo, che ha rivolto un messaggio ai marinai del futuro. Spero anche per questi ragazzi di avere la mia stessa passione, ma soprattutto di trovare la loro strada giusta per poter mettere a frutto l'esperienza che fanno anche presso la Capitaneria quando fanno il periodo di dottoraggio e soprattutto l'impegno a scuola, perché una buona preparazione scolastica poi ti può essere utile nel proseguo della carriera. Nel corso della cerimonia sono state consegnate due borse di studio ad altrettanti studenti che si sono diplomati con il massimo dei voti. È toccato poi alla dirigente Daniela Novi, che è anche presidente provinciale dell'Andis, analizzare la situazione in cui ripartiranno le scuole salernitane. Il provveditorato ha impegnato tutte le sue energie per fare in modo che la settimana scorsa arrivassero i docenti sulle cattedre mancanti, anche i docenti di sostegno sono stati tutti quanti assegnati e nello stesso tempo ha dato la liberatoria da oggi di poter attingere alle graduatorie d'istituto per le supplenze a tempo determinato. Quindi tutto è pronto per partire nella maniera migliore possibile e soprattutto con grande gioia e passione. Grazie a tutti.